Tu hai involucrato solo per questo? Vito, tu eri un senso. No. Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. In questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa. Far ti ammazzare. Allora... Sei pronto per il tuo destino? Un gioiello. Oh? Mettimelo su un corno. Vediamo come mi sta. No. Una biblioteca elfica. Un archivio di sapere. Non ci sono elfi chiari. Per ora. Forse se ne sono andati. E possiamo dare un'occhiata. Questo era l'ultimo schema mancante. Penso che presto avrete delle nuove else per le spade. Queste rune... Questi testi non bastano a placare la guerra elfica. Ma a proibirne l'accesso. È utile solo a coloro che vogliono prolungare. Prendendo esempio da Odino. Già... Un bel vantaggio per gli elfi chiari. Il libro è sigillato. Ma c'è un'iscrizione. Il Consul. Vigvir parlava di un esule con quel nome. È probabile che volesse controllare proprio quel testo. Tutta la conoscenza dei loro antenati. La loro storia condivisa. La poesia. Lasciata qui. Abbandonata. Che spreco. Stratpa. Ah. La bibliotecaria vorrebbe dire qualcosa. Lata, Framborg. A quanto pare rivuole il diario. No. La biblioteca. No. 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 Ok. Usa lo scuto, fratello! Usa lo scuto, fratello! Lei crede di proteggerli, nascondendo loro tutta questa conoscenza. Gli Elfi non devono proteggersi dalla loro storia. Devono accedervi. Inizia un nuovo capitolo. Sono colpita. Pensavo volessi ucciderla. L'ultima volta che siamo stati qui dopo la morte di Faye, ho ucciso un Elfo molto importante. Le conseguenze per la sua gente sono state nefaste. Non voglio ripetere l'errore. È fuggita. Oppure è di nuovo nascosta. Non importa. Questo sapere si diffonderà. Il suo lavoro è finito.